Buongiorno, io vorrei dare il benvenuto ai massimi vertici della società italiana di medicina fisica e riabilitazione che sono qui presenti oggi a Cascia, città colpita dal sisma il 30 ottobre, a più di un mese dall'evento sismico proprio oggi che è la giornata internazionale delle disabilità. Quindi io ringrazio il presidente della società, il dottor Paolo Boldrini, il dottor Mauro Zampolini il nostro direttore del dipartimento della riabilitazione Uslumbia 2, il dottor Germano Pestelli e il tesoriere della Simfer. Ringrazio per la presenza perché hanno voluto portare una testimonianza della società italiana di medicina fisica e riabilitazione a Cascia che è appunto città colpita dal sisma, comunque città dove la disabilità c'è ed è continuata ad essere comunque assistita e garantita anche durante questo periodo. Questo grazie alla società italiana di medicina fisica e riabilitazione che ci è stata vicina in maniera particolare. Passo la parola ai colleghi che illustreranno nel dettaglio le modalità di quello che è successo. Grazie. Io come responsabile del dipartimento di riabilitazione voglio innanzitutto ringraziare il dottor Capitò e tutto il team della riabilitazione che ha gestito questi primi 30 giorni a Cascia in maniera veramente notevole, stando vicino alle persone disabili, continuando l'attività riabilitativa e iniziando quello che sarà un po' il compito della settimana successiva, cioè identificare le persone disabili, identificarne i problemi nella prospettiva delle nuove condizioni abitative. E questo sarà veramente importante, è un punto cruciale che qualifica l'intervento riabilitativo, che non è solo fisioterapia, ma anche inquadramento della persona disabile e fare delle azioni a favore di essa. Ma ovviamente ringrazio anche tutta la Sinfer che ha voluto scegliere simbolicamente questa giornata e questo luogo per portare la testimonianza della giornata mondiale della persona disabile. Quindi passo la parola al dottor Paolo Boldrini che è il presidente della società. Grazie, grazie Mauro. Chiaramente, come ha già detto Mauro, questa presenza di oggi nella nostra società scientifica vuole essere un ricordo, una testimonianza della vicinanza alle persone con disabilità, anche in queste condizioni particolarmente difficili e gravose. Ed è anche doveroso ringraziare sia Gino Capitò che Mauro che tutti gli altri colleghi che stanno contribuendo ad alleviare le sofferenze delle persone colpite. Come sapete non è la prima volta che la Sinfer interviene in queste circostanze. Abbiamo allestito un nucleo di colleghi disponibili a dare una mano e a contribuire. Abbiamo acquistato la tenda e questo grazie anche all'impegno profuso in questi anni da Germano Pestelli che è qui accanto a me e a cui cedo volentieri la parola. Quindi un caro saluto a tutti i soci Sinfer chiedendo a loro ancora di impegnarsi e di essere vicini a qualsiasi persona con disabilità nelle circostanze purtroppo gravose che ci troviamo ad affrontare oggi ma anche nella vita quotidiana di tutti i giorni. Vi ringrazio soprattutto, vorrei ringraziare gli amici e i colleghi di Cascia, di Foligno, dell'Umbria che fin dal primo giorno che sono stati colpiti dal terremoto hanno cominciato a continuare a fare riabilitazione esattamente come i giorni precedenti. Devo dire che la tenda che abbiamo alle nostre spalle li ha sensibilmente aiutati dando loro un luogo dove poter continuare la riabilitazione sulle persone che avevano delle problematiche di disabilità pergresse al terremoto. Come ha detto il Presidente la Sinfer è presente oggi a Cascia, è stata presente ad Amatrice, è stata presente ad Arquata come fu presente in Emilia nel 2012 e all'Aquina nel 2009. Stiamo cercando di migliorare questa nostra attività in favore delle emergenze e speriamo nel futuro di essere ancora più efficienti di quelli che siamo stati qui. Grazie. Io sono il tesoriere della Sinfer e credo che questo investimento che è stato fatto sia stato un investimento ottimo perché come ha detto già il Dottor Pestelli ha consentito a tutte le persone colpite da questa calamità naturale di poter proseguire l'attività e il programma riabilitativo. Quindi speriamo di poterlo utilizzare il meno possibile per questi eventi ma come era alle origini il progetto questa tenda doveva servire anche per promuovere le attività della Sinfer. Grazie.